Il nostro viaggio in provincia ci porta oggi a Penna San Giovanni. Ci troviamo nella splendida cornice del Teatro Flora, unico teatro lineo delle Marche. Davvero uno spettacolo che merita di essere visto e conosciuto da tutte le persone. Ci troviamo qui oggi anche per parlare di piccoli comuni al voto. Infatti Penna San Giovanni eleggerà il 6 e 7 maggio il nuovo sindaco che succederà al primo cittadino, Manuele Crisostomi. La popolazione è buona, ottima. È un paese molto agricolo, però anche lì l'agricoltura comincia a perdere i colpi. Parecchi artigiani ci stanno ma vanno a lavorare fuori. Non c'è più un nodo, un nocciolo come si chiama. Siamo un po' tutti vivi, si vive sull'onda del passato. Senta, tra un po' ci saranno le elezioni a Penna San Giovanni. Sento che i nuovi, anche i vecchi, che si sono portati tutti bene e abbiano delle forze, delle capacità di poter dare una svolta alla vita di Penna. Lei che è al sindaco, chiunque sia il prossimo, chiunque vinca, cosa chiederebbe, cosa gli suggerirebbe di fare? È un punto interrogativo che gli chiediamo. Qui sarebbe troppe cose da chiedere per Penna. Per esempio? Che non saprei adesso, mi prende un po' alla sprovvista. Ha un'idea sul voto che esprimerà il 6 e il 7 maggio? No, ma qui a Penna siamo sempre stati dei buoni elettori. L'aria. L'aria è buona e tutto è buono. Qual è la cosa che le piace di più di questo paese? La natura. Come si sta qua a Penna San Giovanni? È il mio paese, ci sto bene, tutto qua. Che cos'è che le piace di più del paese? Non so la gente? Tutto del paese, tutto del paese mi piace. Altro non so da più. Ci siamo poche persone, però si vive bene, tranquilli. L'aria è buona, l'estate si sta bene. Cosa le piace di più del paese? Del paese? Ma la tranquillità. Perché non c'è tutte persone tranquille. Invece un problema, una questione che chiederebbe al nuovo sindaco di risolvere? La questione del nuovo sindaco è che siamo poche persone, il lavoro ce n'è poco, logicamente c'è poco movimento. E che piccola si sta tranquilli. E se invece dovesse chiedere al nuovo sindaco qualche problema da aggiustare, qualcosa da risolvere, che cosa gli chiederebbe, cosa vorrebbe? Ma io sinceramente non ho problemi, perché se c'è stato qualcosa è stato sempre risolto, non ci stanno i problemi. Voi siete in vacanza qui? No, abbiamo una casa qui vicino, a Monti San Martino, a Pena San Giovanni. Ah, quindi vivete proprio in Italia? No, ma non tutto l'anno, solo per due o tre mesi per anno. Da quanti anni è che siete in zona? Cinque anni. Da dove venite? In Inghilterra, da Londra. Londra? Trisi? Si vive bene, si vive bene. Si vive bene. E cos'è che le piace di più di questo paese? Io magari sto in campagna, non è che... Si vive tranquilli? Eh, sì, sì, tranquilli, tranquillissimi. Si lavora in campagna? Eh, molto. C'è da fare? Eh, in questo paese si vive bene, però non mi si fa tirare avanti. Qual è il problema principale, secondo lei? Il principale è che non c'è più lavoro. Le lavoro poco, i soldi di meno, perché tutto è speso. Ci conosciamo tutti. C'è qualche problema che chiederebbe di risolvere al nuovo Sinnaco? Adesso ci sono le elezioni, fra un po' qualche questione, qualcosa? Ma qui risolvere i problemi non è facile, non è facile né a livello dell'Italia né problemi. Qualche lavoro per i giovani, perché purtroppo i giovani devono andare fuori. Sempre quello il discorso. I problemi ne sono tanti, però non ce ne so di. Che vuoi risolvere? Perché in un paese di vecchio non si può risolvere niente. Che vuoi risolvere? Lei andrà a votare le prossime elezioni? Quale? Amministrativo? Ah no, amministrativo. Sì, sì, senza altro. Chi viene di male? Lei sta bene o male? Io sta male. Sta male. C'è 90 anni che vuoi prenderne. Senta, andrà a votare le prossime elezioni del 6-7 maggio per il nuovo Sinnaco? Siamo così. E che cosa spera che possa fare il nuovo Sinnaco? C'è un problema che... Quello che vince. Come? Quello che vince lo dico. No, no, non chi vota. Un problema che vorrebbe che il nuovo Sinnaco risolvesse? Eh, che vuole risolvere. Io non lo capisco. Quello che non c'è, bisogna che non lo dà la niente. Ti capite? Sì. Non gli dà cosa. Le soldi se ne piglia poche, però non c'è manco modo di spendere. Un problema che chiederebbe al nuovo Sinnaco, chiunque vinca le prossime elezioni, un problema che dice vorrei fosse risolto questa cosa qui, che cosa chiederebbe? Ce n'è tante da risolvere qui, non è che ce n'è poche, che ne so, qual è da risolvere la nuova amministrazione? Ce n'è tante, ho detto, però... Lei andrà a votare? Penso di sì, ci sono nato sempre. Io penso di annacce. Dopo, dove si vota o di qua o di là, quello ancora non si sa. E questo è l'ufficio del Sinnaco, momentaneamente la poltrona occupata da Manuele Crisostomi, il suo successore verrà scelto dopo le consultazioni amministrative del 6 e 7 maggio. Grazie. Grazie. Grazie.